Elisabeth Barrett Browning, la profetessa della libertà, 1806-1861. Tra le quattro poete, Elisabeth è la più anziana. Nacque nel 1806 nel nord dell'Inghilterra in una ricca famiglia di proprietari terrieri che da generazioni si era fermata nella coltivazione nel commercio dello zucchero, sfruttando schiavi africani per lavorare nelle piantagioni giamaicane. La rigida impostazione familiare imponeva che il cognome Barrett fosse mantenuto tra i discendenti, pena l'eredità. Il padre di Elisabeth, intransigente e inflessibile, proibì il matrimonio a tutti i suoi figli e figlie. Prima di dodici, Ba, il suo nomignolo di famiglia, crebbe nell'agio e nella ricchezza e tra le colline inglesi, insieme ai suoi otto fratelli e alle sue tre sorelle, una delle quali lasciò il corpo ad appena tre anni, quando Elisabeth ne aveva appena otto, visse un'infanzia felice nell'est dell'Inghilterra, in una sfarzosa residenza di campagna in stile mille e una notte, ricevendo un'elevata educazione privata in famiglia. Mostrò precocemente genio e talento, che i suoi genitori incoraggiarono da subito, sebbene non le fu permesso di andare a scuola come per i fratelli maschi. Avida di conoscenza, scrisse racconti già all'età di quattro anni, leggeva greco antico e l'ebraico, ma la poesia era ciò che la faceva volare alto. A quattordici anni, pubblicò privatamente poesie e un poema in rima, intitolato La battaglia di Maratona, ispirato all'invasione persiana della Grecia nel 490 a.C. Nello stesso periodo, Elisabeth e le sue due sorelle contrassero una malattia alla colonna vertebrale, che provocava intensi spasmi fino alla perdita della mobilità. La medicina scientifica del tempo non fu in grado di trovare una cura. Le sorelle guarirono, ma Elisabeth si portò questa sindrome con sé per il resto della sua vita, assumendo oppiacei per lenire il dolore. Fu così che iniziò la sua reclusione in casa, studiando, leggendo e scrivendo. La vita al di fuori passava da lei tramite i libri. Mary Wollstonecraft fu un grande punto di riferimento per la sua crescita intellettuale. Inoltre sviluppò idee femministe, abolizioniste e un credo religioso tutto suo in una famiglia tradizionalista, schiavista e di ferrei credenti. All'età di 22 anni, nel 1828, Elisabeth perse la madre e ad assumere la guida della casa fu l'azia paterna, Sara, con la quale ebbe un rapporto molto conflittuale. Con l'ondata abolizionista, la famiglia Barrett subì un colpo finanziario, che tutto sommato non compromise la giatezza economica. Dopo diversi traslochi, nel 1838, si trasferirono in Wimpole Street, a Londra. In quell'anno, Elisabeth, 32enne, soffrì di un forte attacco polmonare e, su suggerimento dei medici, si fece curare per un periodo a Torquay, nel Devonshire, dove scrisse e pubblicò la sua prima raccolta di poesie, The Seraphim and the Other Poems, i serafini e altre poesie. Il dialogo tra due serafini durante la crocefissione. La religione di Elisabeth fu la poesia che lei interpretava come percorso spirituale di ricerca interiore. In una lettera scrisse Il fallimento dei poeti religiosi non dipende tanto dal loro essere religiosi, quanto dal fatto che non sono poeti. La religione di Cristo è essenzialmente poesia, poesia glorificata. Lettera a Mary Midford, 1842. Sebbene non rinnegasse la visione religiosa del tempo, il suo credo spirituale fu come il suo senso letterario. Così come univa abilmente diversi stili e tradizioni poetiche, Elisabeth si lasciò guidare dal proprio intuito, chiamando spiriti, celebrando i morti, evocando la grande madre e implorando dè e dèi a seconda della necessità del momento e del contesto in cui scriveva. Senza risultare affatto caotica e incoerente, ma creando con facilità una connessione profonda con il mondo spirituale e aprendo portali su dimensioni di ogni genere. Cita spesso il dio maiuscolo di cui era impregnato il linguaggio dell'epoca, ma non è la divinità imposta da una dottrina, bensì è il divino dentro ognuno di noi. E ancora Il 1840 fu un anno tragico. Il fratello Samuel fu assalito dalla febbre e lasciò il corpo in Giamaica ed Edward, il fratello a lei più caro, annegò durante una visita a Torquay. Il padre non mancò di colpevolizzare Elisabeth, che, già debole e depressa, fu ad un passo dalla pazzia, come scrisse successivamente in una lettera all'amica e quotata scrittrice Mary Mitford. Fu proprio Mary Mitford ad aiutarla moralmente ad uscire dalla crisi. Oltre a regalarle Flash il suo cane preferito, insieme al cugino John Kenyon la introdussero nell'ambiente letterario con cui tenne contatti attraverso le lettere. Nello spassoso e ironico romanzo Flash Biografia di un cane, Virginia Woolf ci ha raccontato la vita di Elisabeth proprio tramite gli occhi e il naso di Flash, con cui Elisabeth trovò istantaneamente una grande affinità ed una certa somiglianza, e a cui dedicò alcune poesie ricche di gratitudine. Tornata a Wimpole Street, Elisabeth ebbe un periodo di ripresa fisica, ma considerata invalida dai dottori e dalla famiglia, finì per crederci anche lei e perciò fu esentata dall'educazione domestica riservata alle figlie femmine. Passò così il tempo nelle sofferenze fisiche, nell'angoscia dell'oppressione paterna e nell'immobilità della sua ricastanza, dedicandosi interamente a coltivare la sua mente e il suo spirito. Riceveva poche visite e interagiva col mondo tramite i suoi scritti. Tra queste, anche con Florence Nightingale, instaurò un'amicizia epistolare. Il suo isolamento la portò a pubblicare nel 1844, a 38 anni, i Poems, una seconda raccolta di poesie che ebbe un grande successo anche all'estero. Con schiettezza e lucidità e con la sua elevatissima cultura e conoscenza teorica, mise bene in chiaro la sua posizione genetica e filosofica. Scrisse sulla condivisione delle ricchezze, sull'industrializzazione, sulla manipolazione del potere, sull'uguaglianza tra i sessi, sul libero amore e pubblicò opere contro il lavoro infantile, apportando un grande contributo in favore delle riforme del lavoro per le donne ed i minori. Tra i sonetti, il poemetto Cry of the Children, il pianto dei bambini, fece un grande clamore anche in America e, in The Runaway Slave of Pilgrim's Point, La fuga dello schiavo a Pilgrim's Point, Elizabeth si immedesimò in una schiava in fuga, sottolineando le sue idee abolizioniste e descrivendo le privazioni che visse anche Harriet Tubman, che noi della Scuola delle Donne conosciamo bene. In un clima letterario conservativo prettamente maschile, è facile comprendere quanto fu criticata non solo per le tematiche considerate fuori luogo per le donne, ma anche per i diversi stili e registri e per le rime che seguivano una metrica totalmente personale. Ma Elizabeth era ben cosciente della portata rivoluzionaria delle sue opere e si chiedeva come mai non esistessero poete e donne alle quali potesse ispirarsi, domanda che si pose anche Virginia Woolf un secolo dopo nel suo saggio Una stanza tutta per sé. Tra i poems, due in particolare sono dedicati a George Sand, che noi della Scuola delle Donne conosciamo come la grande maestra e scrittrice francese, Ordupin. Questi due sonetti sono tuttora molto dibattuti sia per la forma che per il contenuto. Il primo sottolinea l'eloquente ammirazione della poeta inglese per questa grande donna di genio artistico e di passione, identificandola come modello androgino a cui ispirare. Non può passare inosservato che la protagonista di quello che è considerato il suo più grande poema, Aurora Lei, ha lo stesso nome di Ordupin. Così recita il primo sonetto. A George Sand, un desiderio. Tu, donna dal cervello grande e uomo dal cuore grande, che si chiama George Sand, la cui anima tra i leoni dei tuoi sensi tumultuosi, geme di audacia e risponde rugito per rugito, come fanno gli spiriti. Vorrei che qualche lieve tuono miracoloso corresse sopra l'applaudito circo, in mezzo alla forza e alla scienza della tua più nobile natura, muovendo due ingranaggi, bianchi come ali di cigno, dalle tue forti spalle, per stupire il luogo con luce più santa. Che tu, alla pretesa della donna e a quella dell'uomo, possa unirti alla grazia dell'angelo, di un genio puro santificato dalla colpa, finché il fanciullo e la fanciulla si stringessero al tuo abbraccio per baciare sulle tue labbra una fama immacolata. Nel secondo sonetto, in nome della sorellanza, Elizabeth esortò Aurore a non disprezzare il suo lato femminino, perché è da lì che nasce il suo fuoco poetico. Dai versi pare emergere la fragilità e la sofferenza dell'essere donna in un mondo di uomini, proprio come avviene in Lelia, romanzo autobiografico in cui George Sand descrisse le pene e le angosce subite durante il periodo di separazione legale dal marito. Così recita il secondo sonetto. A George Sand un riconoscimento Vero genio, ma vera donna. Neghi forse la natura della donna con un vile disprezzo e rompi le gioie e i bracciali indossati dalle donne più deboli in cattività? Ah, vana negazione. Quel grido rivoltato è singhiozzato da una voce di donna desolata. I tuoi capelli di donna, sorella mia, tutti non rasati, fluttuano indietro con spettinata forza in agonia, disapprovando il nome del tuo uomo. E mentre davanti al mondo bruci in un fuoco di poeta, vediamo il tuo cuore di donna battere sempre più attraverso la grande fiamma. Batte più puro, cuore, e più in alto, finché Dio non ti toglierà il tuo sesso sulla sponda celeste dove gli spiriti non incarnati aspirano puramente. Grazie alla vasta conoscenza e sagaceronia, le opere di Elizabeth e i suoi saggi sugli autori della tradizione e contemporanei le valsero la stima del mondo della letteratura. Tra costoro, la quattordicenne Emily Dickinson fu affascinata dai poems e si trovò in forte risonanza con Elizabeth e con il suo isolamento, situazione che, come vedremo, farà sua più avanti nella vita. Anche il giovane poeta Robert Browning fu molto colpito dal suo stile nuovo, fresco e rivoluzionario, tanto che le scrisse lodandola e le chiese di incontrarla. Nacque così uno dei corteggiamenti più famosi della letteratura inglese, testimoniato dalle innumerevoli lettere d'amore che si scambiarono all'insaputa della famiglia. Tra il 1845 e il 1846, la quarantenne Elizabeth e il trentenne Robert si innamorarono, incontrandosi in segreto, nella stanza di lei, quando il padre era assente e instaurando un forte legame non solo affettivo, ma anche artistico. Dopo un iniziale rifiuto da parte di Elizabeth dovuto alla paura del gioco della tirannia familiare e alle ripercussioni sulla sua salute, i due innamorati si sposarono di nascosto. Come diretta conseguenza, Elizabeth fuggì di casa, consapevole di perdere l'eredità e di non poter più rimettere piede nella gabbia paterna. Dopo la luna di miele a Parigi, si trasferirono a Firenze, nella residenza di Casa Guidi, che oggi ospita il museo a loro dedicato. Elizabeth e Robert vissero una vita felice in Italia. Grazie alla liberazione dall'oppressione familiare, al clima mite e all'amore sincero di Robert, Elizabeth rifiorì artisticamente, fisicamente e spiritualmente. Dopo il matrimonio, pubblicò i famosi Sonetti dal portoghese, il canzoniere di sublimi poesie d'amore che scandalizzò l'Inghilterra e fece aumentare ancora di più la sua popolarità. In questa raccolta, Elizabeth seguì il filo delle emozioni femminine e introdusse il concerto di interdipendenza tra uomo e donna nella relazione amorosa, rifiutando ogni compromesso con la tradizione non solo poetica, ma anche del costume vittoriano e del puritanesimo religioso. Con i Sonetti, Elizabeth si conquistò il ruolo di precorritrice, facendo luce sulla strada di tutte le scrittrici a venire. Così recitano alcuni suoi Sonetti. Come ti amo? Lascia che io conti i modi. Ti amo fino alla profondità, all'ampiezza, all'altezza che la mia anima può raggiungere quando è lontana, allo scopo dell'essenza e della grazia ideale. Ti amo a livello dei più tranquilli bisogni di ogni giorno, al sole e alla luce della candela. Ti amo liberamente come gli uomini lottano per la giustizia. Ti amo puramente come tali uomini rifugano la lode. Ti amo con la passione di cui mi son servita nei miei vecchi dolori e con la fede della mia fanciullezza. Ti amo con un amore che mi sembrava di perdere con i miei perduti santi. Ti amo con il respiro, i sorrisi, le lacrime di tutta la mia vita e se Dio vuole non potrò che amarti ancora di più dopo la morte. Se tu mi devi amare lascia che sia per nulla eccetto che per amore dell'amore soltanto. Non dire l'amo per il suo sorriso, il suo sguardo, il suo modo gentile di parlare per una singolarità del pensiero che si combina bene con il mio e in vero portò un senso di agio piacevole in tale giorno. Perché tali cose possono, mio amato, essere mutate in se stesse o mutare in te e l'amore, foggiato così, può venire disfatto così. Non amarmi nemmeno per la tua cara pena delle lacrime che le mie guance asciugano, che una creatura potrebbe dimenticare di piangere che portò a lungo il tuo benessere e perciò perdere il tuo amore. Ma amami per amore dell'amore così che sempre più tu possa continuare ad amarmi per l'eternità dell'amore. Nel 1849 a 43 anni Elisabeth diede alla luce il suo unico figlio Robert Wiedemann Barrett Browning detto Penn e intorno a quegli anni scrisse il poema in rima Le finestre di Casa Guidi in cui la poesia diventa sia espressione genetica dal punto di vista di una donna che mezzo profetico per materializzare la propria visione. Il poema venne composto in due momenti diversi osservando i grandi cambiamenti sociopolitici dalle finestre di Casa Guidi di Firenze. La prima parte è del 1848 in cui Elisabeth incinta si identificò nella matria la manifestazione femminina dell'Italia dei moti rivoluzionari e ispirandosi ai grandi nomi del passato italiano lanciò la sua profezia per un futuro di pensatori e pensatrici al posto di compattenti di coscienza popolare al posto della passione popolare di guide politiche capaci e virtuose al posto di re e papi ladri e corrotti. La poeta propose un'analisi idealistica come a voler suggerire un modo femminino di fare politica la genetica appunto un metodo che prende in considerazione la visione introspettiva dall'interno verso l'esterno come il suo punto di osservazione dalle finestre di Casa Guidi pur elogiando il passato di grandi geni e talenti dell'arte e della letteratura italiana invocandone la memoria Elisabeth si rifiutò di compiangere la matria bella e dannata come sollevano fare i poeti italiani uomini di quell'epoca con queste parole evocò il popolo all'azione nel qui ed ora libero dall'immobilismo che la soggezione del genio passato infonda al presente non serviamo non serviamo i morti il passato è passato oh morti non vi aggrapperete a noi con le vostre mani irrigidite di orgoglio inaridito tirandoci indietro per la veste per star fermi e tessere le vostre lodi in lunghi versi vi ringraziamo perché primi avete aperto la porta non la renderemo più inaccessibile ostruendo la soglia con i nostri ringraziamenti ma avanzeremo per estinguere l'inferno con le nostre anime fresche le nostre speranze più giovani e con la maturità di scopo di Dio ora dobbiamo eccellere come voi e portare la vostra era altrettanto lontano non limitati dall'ultimo confine del mare così saremo invocati dalle generazioni future come i morti la seconda parte del poema si riferisce al 1851 quando il granduca di Toscana tornò a Firenze per mezzo dell'intervento austriaco Elisabeth ora madre si sentì ingannata e la sua critica alla condotta politica italiana ed inglese è ancora più pungente perché come scrive nei suoi versi la pace costruita sulla finzione non è pace ma cito un tradimento irrigidito dalla sventura e la disperazione imbavagliata e l'errore inconfessato spremendo la vita di queste anime italiane visse così sulla propria pelle il tradimento all'Italia che la contemporanea Cristina Trivulzo di Belgioioso descrisse nel suo trattato 1848 a Milano e a Venezia allo stesso tempo Elisabeth ribadì la validità della sua profezia ma comprese che la sua magia non fu abbastanza potente rispetto a quella in atto a livello geopolitico come a suggerire che il suo punto di vista non fu sufficientemente ampio per contemplare i movimenti più oscuri e nascosti della storia la speranza perciò è riposta nel futuro che i figli sollevati dalle anime dei loro genitori sapranno costruire in questa seconda parte dedica un breve tributo ad Anita Garibaldi De Jesus Ribeiro de Silva e si immedesima con lei e con il suo grande fardello descrivendo il tragico momento della sua dipartita dal corpo Elisabeth non pare a ballare la versione più diffusa della sua morte dovuta alla febbre ma parla di cito violenti bastoni esegugi del mondo come a sottolinearne l'omicidio così recita il poemetto nemmeno nemmeno una di queste tombe deve essere privata dei ringraziamenti nemmeno quella di colei che al lato dello sposo sprezzante sfidò con coraggio le pallottole fischianti e le onde sibilanti finché non sentì il suo piccolino non ancora nato ritirarsi dentro di lei a causa dei violenti bastoni e dei seguchi del mondo per cui la sua vita sgusciò via dai suoi occhi e seguì suo figlio fuori dalla portata dei cacciatori la moglie di Garibaldi e il suo bambino morirono così e ora le alghe del mare rivestono il suo corpo come un vero e proprio sudario e mormoranti le acque rifluenti ricoprono i piccoli ciottoli mentre lei giace sepolta nella sabbia del mare forse prima di morire così levò lo sguardo al viso di lui che mai si scosse per la tesa angoscia come per scusarsi di lasciarlo per il suo bambino e così facendo avesse errato lui ben ricorda che lei non pote scegliere una tomba memorabile il suo più grande successo fu Aurora Lei il romanzo in versi sciolti che scandalizzò la società dell'epoca ancora una volta divisa tra lode e condanna Emily Dickinson e Cristina Rossetti entrambe 26 anni di cui parleremo nelle prossime puntate ne furono entusiaste facendone eco nelle loro poesie ci vollero due anni per completare il lavoro nel 1856 ma Elizabeth fu molto soddisfatta e lo descrisse come la sua opera più matura in cui condensò le sue convinzioni sulla vita sull'arte e in cui si definì donna artista e professionista insieme raccontandosi nei panni di Aurora l'autrice sembra descrivere il sentire di tutte le donne in un crescendo di incontri e malintesi tra narrazioni incalzante e poesia di passione per la vita in un tripudio di citazioni e riferimenti di testi di ogni genere laici e religiosi nata libera in Italia da padre inglese e madre italiana l'orfana Aurora cresce nella casa inglese della ricca zia paterna che le impone l'educazione vittoriana e puritana inflitta alle ragazze dell'epoca e di cui denuncia la crudeltà e le costrizioni con tagliente lucidità la sua fame di libertà e il suo amore segreto per la poesia non vengono schiacciati ma crescono in silenzio nell'ombra così vengono descritti la sorella di mio padre si agitava non appena vedeva la mia anima accendersi negli occhi quasi dicesse qualcosa qui non va sento di non averti abbastanza triturata per appiattirti bene e arrostirti per farti diventare una sana appendice della casa dentro di me l'anima cantava come in un suo lavoro a parte oltre il muro dei sensi al riparo dal male come canta la lodola così fra lavori liberi e forzati la vita interiore ispirava l'altra placava il tumulto del sangue gli dava un ritmo regolare rinfrescava la mente con freschi zampilli di sogni noi vivremo Aurora e saremo forti rinunciando al matrimonio combinato con il cugino filantropo Romney Aurora sceglie di autodeterminarsi e di coltivare il suo talento artistico a Londra mantenendosi da sola con la sua penna tra le difficoltà del mondo letterario maschile come le rinfaccia il cugino che deride la sua ambizione di donna così descrive la situazione ciò che tu ami Romney non è una donna ma una causa signore tu non vuoi una signora ma una serva una moglie che ti aiuti a realizzare i tuoi nobili scopi non i suoi la tua causa è nobile i tuoi scopi sono eccellenti ma io mi ritengo indegna degli uni e degli altri e ho un'idea diversa dell'amore addio tu sei già sposato da gran tempo con chi ami la tua teoria sociale siate entrambi benedetti in quanto a me non sono abbastanza docile per far da serva ad una moglie legittima dimmi ti sembro forse un agar continuo in un altro punto noi donne siamo portate a dedicarci ad un unico uomo questo nell'arte significa una certa impotenza per far qualcosa di grande forziamo la nostra natura sembriamo piccole per quanto vorremmo fare di grande e ci impegniamo per non sembrarlo agli occhi di un amico dal quale vorremmo essere apprezzate pensiamo infatti che ci serva sempre un mediatore fra la nostra coscienza più elevata e un giudice qualche dolce sangue di santo deve vivificarsi nel palmo delle nostre mani altrimenti tutta la vita che sta in cielo ci parrà tiepida e torbida non sarà così per me questo stupido vezzo femminile di trascinar vestiti non mi farà inciampare nel puro tempio dell'arte io non avrò tempo per faccende personali sarebbe forse inutile il mio lavoro senza l'approvazione di un uomo no non sarà così le strade dei cugini Aurora e Romney si separarono per dieci anni fin quando i due si ritrovarono a Londra grazie all'imminente matrimonio di Romney con Marianne Earl donna povera e illuminata dall'amore servile per il suo benefattore ma a causa degli intrighi della capricciosa innamorata Lady Waldemar anche questo matrimonio fallisce Marianne ingannata fugge subisce violenze e abusi morendo a se stessa e conducendo una vita miserabile alleggerita solamente dal sorriso del suo bambino senza padre il sentimento materno viene descritto come uno dei diversi modi di amare puramente quello che più facilmente porta all'inclusione di tutta la creazione ormai autrice conosciuta e apprezzata Aurora diretta in Italia incontra Marianne casualmente a Parigi e le due donne si sostengono a vicenda nella sorellanza nel frattempo fallito e compromesso economicamente atterrito e quasi cieco Romney le raggiunge a Firenze e pentito della sua cecità intellettuale e spirituale si dichiara nuovamente ad Aurora lodando la sua arte e il suo talento anche lei comprende di amarlo e di aver rinunciato all'amore per dignità e per mantenere intatta la sua anima e la sua arte chiudendosi nello sconforto di chi si priva della fonte di vita l'amore con la A maiuscola come la minne di Advech di Ambersa e d'amore di Marguerite Così parla Aurora Convinta di volontà denunciando la schiavitù del matrimonio e il maligno giudizio maschile nei confronti delle doti e delle peculiarità femminine non solo sottolineandone ciò che non va nella cultura e nella morale del suo tempo ma creando la visione di un mondo nuovo dove uomo e donna sono le due parti di un'unità quello che ne esce è una visione dell'essere androgino come modello non nel senso assessuato e privo di caratteristiche dei due sessi ma un modo di essere che l'incorpora nella completezza e nella consapevolezza sublimandosi nell'unione dell'amore fisico e spirituale ribaltando completamente l'etichetta vittoriana e l'etica cavalleresca medievale ogni donna diventa il cavaliere di se stessa senza più bisogno di cavalieri che la salvino proprio come Elisabeth vedeva Georges Sand cito non sono poi tanto donna da non essere talora anche un po' uomo non dimenticatelo uomini d'altronde anche voi siete altrettanto donne così come le donne sono altrettante aurore e più avanti mi sembra di albergare dentro di me un'entità maschile che disprezzi questo genere di donne tuttavia nel riflettere sopra un torto o un dolore ci commuoviamo nel tentativo di annientarlo col rischio di annientare noi stesse ed è proprio questo che facciamo tutto ciò è indubbiamente femminilità non malattia al mondo non esiste più la cavalleria maschile e noi donne siamo eterni cavalieri erranti se Cervantes fosse stato ancora più grande il suo don lo avrebbe fatto donna nella ricerca dell'androgenia sta la ricerca dell'unità del cammino di introspezione e di crescita personale verso la verità al di là del proprio sesso biologico ma attraverso di esso in quanto parte di questa dimensione duale che è sia materica che spirituale cito la perfetta circonferenza che ben si adatta alla mano di venere è svanita da quando abbiamo preso a divorare entrambe le metà senza lo spirituale notate bene il naturale è impossibile non ha forma né moto senza il sensibile lo spirituale non è apprezzabile non ha bellezza né potere in questa doppia sfera l'uomo duplice e l'artista intensamente uomo deve indirizzare la sua ricerca attraverso le cose materiali per giungere alle spirituali al di là da quelle fissando ancora una visione mortale si farà un modello per penetrare con occhi immortali dentro un contromodello che qualcuno chiama ideale ma sarebbe meglio chiamare reale come sarà definito quando le cose saranno chiamate con il loro nome le cose temporali ci mostrano regali parentele si elevano verso un significato eterno entrano nelle braccia spalancate di dio qua giù non v'è niente di grande né di piccolo ha detto un poeta del nostro tempo e ancora la verità va oltre la penna come l'anima va oltre la vita proprio per la pura verità nessuno donna uomo nessuno tranne dio potrà vantarsi della verità poiché sarò esaminata purificata sollevata dalla luce da colui che creati il firmamento i cieli i fiori gli animali non li chiama più buoni ma chiama buona soltanto la verità cioè lui stesso la verità che sa condurre ogni cosa verso l'alto verso il doppio mondo che a sua volta dovrà andare verso un perfetto cosmo con le sue cose materiali e quelle spirituali chi separa questi due mondi nell'arte nella morale nella società sradica quanto tiene insieme la natura e provoca la morte in breve sarà dannoso in ogni senso seguendo la legge naturale del come sopra così sotto ci viene impartita la lezione fondamentale per il cammino interiore ossia che cito la sola strada è l'anima e che la vita si sviluppa dall'interno il compito della poeta e dell'artista è di indagare i moti invisibili dell'anima fin nel profondo e di renderli comprensibili alla collettività in collaborazione con coloro che esplorano il mondo visibile come due dimensioni parallele che si rispecchiano l'una indispensabile all'altra nel 1857 Edward Barrett il padre lascia il corpo Elizabeth aveva 51 anni e non fu mai in grado di arrivare ad una riconciliazione egli infatti respingeva le sue lettere e non volle mai conoscere il nipote la figura paterna di Aurora lei è imbevuta dell'amore che Ba aveva per il padre e nel descriverla sembra voler cambiare le sorti del loro rapporto in ciò che potremmo definire una costellazione poetica nonostante la ripresa fisica la salute di Elizabeth non si ristabilì mai del tutto e un lento declino la colpì portandola a spostarsi prima a Siena poi a Roma per poi tornare a Casaguidi a Firenze dove lasciò il corpo nel 1861 a pochi mesi dalla nascita dello stato italiano aveva 55 anni e tra le braccia del marito la sua ultima parola fu beautiful nelle donne nella scrittura Virginia Woolf lodò Elizabeth non solo per il suo spessore poetico ma anche per la sua grande dedizione alla critica del mondo che la circondava e per il suo coraggio di liberarsi dal gioco paterno nonostante Elizabeth fu considerata la più grande poeta dei suoi tempi la sua opera venne dimenticata così come il suo immenso apporto spirituale e fu rivalutata soltanto negli anni 70 del novecento dalle esponenti del femminismo inglese sempre nelle donne una scrittura Virginia Woolf parlò di altre poete che esamineremo insieme nei prossimi giorni di altre poete di altre poete di altre poete Grazie a tutti